Salute friends, Cristina Masao, due mesi dopo niente utilizzo di bici, dopo un anno che non vediamo si parte subito una soia di curve con una secondina buono il terreno oggi, qui c'è una roca che è da fare, che bellissimo un po' di foglio, un po' di foglio, un po' di foglio, è rotto un po' di foglio, ripidino maiali, scalottissimo no no per cui il ferro perfino ti smetti qua non si crea di merda Vedi? Vado, non me la rifererò più No, sono un po' pedalata Un altro ciampettino Ci vola Ci sono un tosse Oh, è stato un po' di spesso 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 Oh, è stato un po' di spesso